Non ho superato l'esame perché non ho studiato. Non ho superato l'esame perché non avevo studiato. E questo? Secondo te cosa significa? E cosa ne so? Forse qualcuno che è stato bocciato all'università. No, non ha senso. Guarda, la seconda frase è più corretta, più grammaticale. Un bel mistero. Ma non c'è nessun mistero. Qui a Milano ci sono un sacco di case editrici. Tutte le più importanti. E molte fanno libri per la scuola. Sarà una frase per un libro di grammatica. Hai sicuramente ragione. Proposta inaspettata. La donna dello specchio. Dolci amarezze. La moglie del milionario. Confessioni in automobile. E queste frasi? Sono scritte in codice? Che mistero nascondono. Il mistero della Libri del Cuore. È una casa editrice di libri d'amore, stile Harmony. Hai presente? Quella deve essere una serie di titoli di libri. Un altro mistero risolto. È brava la mia detective. Ma perché gli altri non arrivano? Uffa, non riusciamo mai a cominciare in tempo. Uh, leggi questa. Aiuto, mi ha chiuso qui dentro. Ecco, sta tornando. Sento i suoi passi. Allora, questa come la spieghi? Non la spiego. Ecco Marco e gli altri. Dai, finalmente possiamo cominciare. Bene, vi ringrazio tutti. Abbiamo fatto un buon lavoro, mi sembra. Allora siamo d'accordo. Prossima riunione, mercoledì 21, sempre qui, ore 9 e 30. Va bene per tutti? Martina, tu puoi venire? Mercoledì 21? Sì, certo. Ci sarò di sicuro. Bene. Ehi Marco. Ciao Martina. Hai letto quella frase sulla lavagna. Aiuto, mi ha chiuso qui dentro. Ecco, sta tornando. Sento i suoi passi. Secondo te cosa significa? Ma non so. Forse è la frase di un libro. Un libro di grammatica? Di grammatica? No, non credo. Forse è di un giallo. Sai, qui fanno riunioni molte case editrici. Sì, sì, lo so. Sara me l'ha detto. Oh, bene. Allora possiamo cominciare. Ci siamo tutti, vero? Grazie per essere venuti anche oggi. Speriamo di riuscire a finire tutto. Allora Martina, tutto bene? Sì, sì, Sara, tutto bene. Ma cosa c'è? Niente, scusa, guardavo la lavagna. Ma è una mania la tua. Cosa c'è su questa benedetta lavagna?